Un'atmosfera bucolica, quella che verrà ricreata nello spazio che per la prima volta ad Arezzo ospiterà l'evento Wedding Garden. Si tratta della prima edizione di una manifestazione rivolta agli sposi e alle coppie in genere. Non a caso le date sono sabato 15 e domenica 16 febbraio, per dare così continuità al 14 febbraio San Valentino, festa di tutti gli innamorati. Ad ospitare l'iniziativa, lo store Show Garden, uno spazio caro agli aretini, non solo per la varietà di piante e fiori che in ogni stagione propone, ma anche perché è diventato ormai un punto di riferimento per le sue originali e bellissime installazioni natale in testa. Wedding Garden, organizzato da Season Eventi di Elena Pomati, è un format pensato per le coppie che hanno in programma il loro giorno più bello, il giorno in cui diranno sì per sé. In questa due giorni potranno trovare tutti i professionisti della wedding industry, vivendo un'esperienza coinvolgente con proposte classiche e innovative. I visitatori potranno infatti scoprire alcune novità grazie alla proposta di settori che si stanno rinnovando anche in chiave wedding.